Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. La presidenza Zelensky mette al suo posto un regime filorusso e da lì manovrare l'intero paese. L'idea iniziale della Russia era che ci fosse un'enorme fetta della popolazione ucraina, perlomeno la metà, pronta ad accogliere i russi come liberatori. Che la parte russofona del paese prendesse questi circa 150.000 soldati come avanguardia di se stessi. Se questo non si è verificato, anche Kharkiv ha resistito per mesi, Kharkiv è una città dove si parla soltanto russo, ha resistito per mesi all'assedio e la percezione è cambiata da quel momento. L'errore centrale è stato questo, tu non puoi occupare un paese che ha più di 40 milioni di abitanti con 150.000 uomini se ti è ostile. Proprio tecnicamente non è possibile. Oggi gli obiettivi sono ben altri, non dichiarati, ma se riuscissero a prendersi il Donbass nella sua interezza, che è l'obiettivo immediato, potrebbero raccontarla anche a se stessi come una vittoria. Lei dice che dopo un anno di guerra, in questo nuovo numero di domino, dopo un anno di guerra la Russia rilancia con mezzo milione di uomini. Questo l'ha detto il Ministero della Difesa Russa, ha annunciato che prosegue la mobilitazione parziale, vorranno portare mezzo milione di uomini al fronte per fare quella che raccontano come offensia di primavera. Secondo qualcuno è già cominciata, è andata già abbastanza male. Secondo qualcuno, Fabri, dicono anche che Putin stia aspettando il dopo Biden, che punti il ritorno dei repubblicani. Sì, manca un po', però potrebbe. Io non so dire se aspettasse dopo Biden rimarrebbe molto deluso, perché è vero che c'è un filone interno non soltanto ai repubblicani, anche interno agli apparati americani, che spinge per, dal momento che il nemico centrale è la Cina, proprio in senso grammaticale, dice, la grammatica ci impone di dividere il fronte dei due nemici, non si possono affrontare insieme, se ne gioca il più debole contro il più forte, cioè si prende la Russia contro la Cina. Questo va avanti da tempo negli apparati americani e se ne fece portavoce della sua inconsapevolezza stramba Trump. Rimane questo filone nei repubblicani, ma attenzione, penso che Putin questo lo abbia imparato, alla fine delle fini non basta. Poi l'atteggiamento strategico degli Stati Uniti verso la Russia, nonostante questi impulsi rimane fermo contro Mosca, ripeto, se Putin aspettasse questo rimarrebbe deluso. Chiudo ricordando un altro punto, che forse si aggancia a questo. L'elemento che a mio avviso emerge da questa settimana è la preparazione di tutte le parti, gli ucraini ai noi non hanno scelta, posso dire, anche se volessero oggi smettiamo di combattere, vorrebbe dire cedere tutto ai russi che gli occupano il territorio. Ma i russi e gli americani di converso, nei loro discorsi, da Putin a Biden, c'è la sensazione di prepararsi ad una guerra lunga. Questo emerge da questa settimana, perché Putin la presenta come esistenziale, quasi definitiva, apocalittica, l'Occidente cattivo che ce l'ha con noi e noi contro l'Occidente. Gli americani dicono, l'ha detto Biden, da Varsavia e risteremo al fianco dell'Ucraina fino alla fine. Se un anno fa pensavamo che potesse durare poco questa guerra, perché la Russia doveva fare di un suo bolcone, di un suo bolcone dell'Ucraina, adesso pare che debba durare a lungo. E Zelensky dice che ci serve di più, si appella all'Europa dicendo che non basta, la minaccia è la minaccia nucleare, adesso lo vediamo. Marco Traquini